Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Fantasy III. V-Box Fantasy III Estremo, Prestazioni, Gaming Gamer, PC, Alto Specificazione, Desktop PC, USB 3, Zero Computer. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie a tutti.